Avete poca dimestichezza con il computer e con internet? Potete prenotare un appuntamento a casa vostra con l'educatore digitale. L'iniziativa è stata intrapresa dal comune di Capannori e sta già suscitando l'interesse dei mezzi di informazione nazionali. In sostanza il comune, su prenotazione, invia gratuitamente a domicilio un esperto in grado di colmare il cosiddetto digital divide, la distanza che separa i nativi digitali da coloro che sono rimasti un po' indietro nell'uso di queste tecnologie. Noi vogliamo colmare questo divario digitale creando occasioni di formazione tramite giovani, quelli che quindi chiamiamo nativi digitali, che vanno a casa delle persone per insegnare ad utilizzare il digitale in maniera corretta, quindi per far sì che le persone possano cogliere le opportunità. Quali opportunità? Ad esempio usufruire dei servizi comunali, ma anche effettuare prenotazioni di qualsiasi tipo senza doversi per forza spostare da casa o installare programmi per comunicare con persone lontane. Ad insegnare tutto questo sarà una pattuglia di giovani dell'associazione proposta attiva. Andremo direttamente nelle case delle persone che hanno fatto richiesta e li dedicheremo al massimo 4 ore del nostro tempo per appunto spiegare tutta una serie di cose di cui hanno bisogno, quindi dall'utilizzo dei servizi informatici web del Comune di Capannori a qualsiasi altra cosa vogliano conoscere. Il digitale a domicilio è partito in maniera sperimentale nella frazione di Segromigno in Monte. Il Comune ha inviato alle famiglie di questa frazione le lettere con le istruzioni per prenotare la visita dell'educatore e ovviamente ci sono già famiglie che hanno approfittato dell'occasione. Noi appena arrivata la lettera abbiamo subito, l'iniziativa era buona, ho detto andiamoci a formare perché siamo un po' indietro con il computer.